Oh no! Ciao a tutti per la prossima Alessia Alessia Napoletana 91 Benvenuti in questo mio nuovo video Allora in questo mio nuovo video volevo parlare Della partita che andate in onda Ieri sera alle 21 Su Dazon Che è stata Brescia Juventus Finita con la vittoria Della Juventus per 2-1 In casa del Brescia Ma nello stadio Mario Rigamonti Ma che dire di questa partita Ce n'è tanto da dire L'allenatore del Brescia è Corini Che devo dire la verità Corini non sta facendo male col Brescia L'anno scorso quando vedi Il Brescia saliva in Serie A Ho detto secondo me Corini e Cedra Avranno molte difficoltà Invece il Brescia gioca bene Devo dire la verità Gioca molto bene la squadra di Corini Hanno un bel gioco Fanno molti di rapporto L'unica lacuna Il centrocampo non è male L'unica lacuna è la difesa Ma ci sta anche E' più sempre il Brescia Che stava in Serie B Ha un buon attacco Anzi un ottimo attacco Madri, Balotelli, Donnarumma Grande attacco Veramente meglio Di tante altre squadre Che stanno più in alto In Serie A Non voglio fare i nomi Ecco Ma meglio di nuovo Devo dire la verità Ha fatto una bellissima partita Non meritava assolutamente La sconfitta Non meritava assolutamente Come la settimana scorsa Il Verona Non meritava la sconfitta Con la Juventus E poi la Juventus ha vinto Lo stesso il Brescia Non dico a vincere il Brescia Perché comunque La Juventus il secondo tempo Ha un po' più dominato E lì tra il portiere Del Brescia Che ha fatto grandi miracoli E la difesa del Brescia Che ha chiuso bene Meritava di più il secondo tempo La Juventus Però il primo tempo Dominato la Brescia Metà del secondo tempo Il Brescia ha fatto bene Il pareggio sarebbe stata La cosa più giusta Perché Brescia Meritava almeno un pareggio E invece come sempre La Juventus Con il fattore C Ha portato a casa Tre punti d'oro Tre punti d'oro Perché comunque La Juventus Ancora non gioca bene Ancora ha tante difficoltà Nel impostare il gioco di Sarri Ma il gioco di Sarri Si sapeva che ci voleva tempo Per farlo Anche col Napoli Sarri ci è voluto un po' di tempo Per ingranare il suo gioco Vediamo se poi riuscirà A darglielo Perché comunque I giocatori del Napoli Non sono i giocatori della Juve Può darsi che il gioco di Sarri È fatto per i giocatori del Napoli Non quelli della Juve Come quando è andato al Celsi Il gioco del Napoli al Celsi Non è riuscito a darlo Quindi non è detto Però comunque ho notato Che il secondo tempo Anche il primo tempo pochissimo La Juventus non è che ha giocato male E ho visto alcuni passaggi stretti Un po' quando giocava Sarri Come allenava il Napoli Alcuni passaggi stretti Simili A come giocava con il Napoli Detto questo Al quarto minuto Subito il brisce in vantaggio Con Donnarumma Che ha fatto un grandissimo gol Però c'è da dire Che su quel gol Secondo me è anche un po' Diciamo Un po' ma papera di Celsi Il portiere della Juventus Perché È vero che è un grande gol Da lontano I gol di Donnarumma È una grande bomba Però secondo me Celsi Poteva fare qualcosina in più Su quel gol Secondo me La poteva un po' parare meglio Però comunque un gran gol di Donnarumma È in vantaggio Cramurosamente dopo 4 minuti Il Brescia Poi arriva il pareggio Della Juventus Un autogol Un autorete Di giocatore dei Brescia Cancellor Ma porca miseria Puro culo questo gol Puro culo E pura fortuna Perché è stata tutta una reazione Tutto un casino Non si è capito nemmeno Come è arrivato Questa autorete Tocchi Impalli Eccetera E che arriva il pareggio Della Juventus Questo refattore C Poi arriva il vantaggio Della Juventus A 63 Con gol di Pjanic Ha tirato una grande bomba Da lontano Pjanic Un bel gol Però Su calcio di munizione Di Di Bala Di Bala ha tirato Diciamo Addosso alla barriera Il barriera Arrivare sul piano E ce l'ha tirato Il solito culo Anche qui Perché comunque Diciamo che Era impallata Sul giocatore dell'Udinese In difesa Sulla barriera E arriva sul piano E Pjanic Tira una bomba Da lontano Ed è gol Un altro bot di culo Ecco Diciamo due goli Della Juventus Due botti di culo Diciamo Come si dice Nella vita Come dico sempre io Nel calcio Come nella vita Puoi essere bravo Quanto vuoi Ma se non hai culo Non vai da nessuna parte E la fortuna Perché sarebbe Perderla più E io non sono sempre più convinta Di questa cosa L'ho provato Sulla mia pelle E nella vita Anche così Come nel calcio E lo continuo A sottolineare E a pensare Detto questo Allora I migliori del Brescia Sono stati Tonali e Romulo Hanno fatto Una partita strepitosa Sia Tonali Che Romulo Per la Juventus Ramsey Non ha giocato male Ramsey Higuain Così così Higuain Così così Sì Ramsey Pure Ramsey Non ha giocato malissimo Ronaldo Non è stato convocato Però vabbè Ronaldo Non è stato convocato Però Non c'era bisogno Di convocare Ronaldo Per battere il Brescia Perché la Juventus Un po' per bravura Un po' per forza Un po' per Fattore C Fortuna e culo La vinceva comunque Quindi non c'era bisogno Di Ronaldo Per battere il Brescia E non è stato convocato Balotelli è tornato Col Brescia Balotelli ha fatto Una grande gara Gli è mancato Solo il gol Balotelli Dopo 4 giornate Di squalifica Dall'ex squadra Che stava Finalmente ha giocato E ha giocato bene Devo dire Ha giocato bene Manteneva la palla Faceva grandi passaggi Però Gli è mancato il gol Il gol non è arrivato Perché non ha avuto Comunque palle Palle-goal Abbastanza Nette e pulite Per poter segnare Ovviamente Non è che c'è Chi imposta il gioco Ne Brescia Quindi ci sta Però Balotelli non ha giocato male Gli è mancato il gol Speravo di fare il coro Se Sartelli Segna Balotelli Però purtroppo Non ho potuto fare Questo coro Quindi Vabbè Per la rabbia Avrei fatto un altro coro Sartelli Balotelli Ecco Diciamo così Che dire Ragazzi La Juve porta Tre punti d'oro Portevo Tre punti d'oro A casa Perché Non ha giocato Benissimo Il primo tempo Di verità Hanno giocato Un primo tempo Per parte bene Il primo tempo Ha giocato molto Molto meglio Il Brescia Il secondo tempo Meglio la Juventus Ha avuto un paio Di occasioni Da gol Che se non era Per il portiere del Brescia Avrebbe segnato Con Iguain Rabiot Anche sul tiro di Rabiot La difesa del Brescia Il portiere L'hanno parato bene Sul tiro di Guain Una grande parata Del portiere del Brescia Quindi Un tempo ciascuno Il pareggio Sarebbe stata la miglior cosa Per quello che si è visto in campo Però Vuoi che La sbloccano sempre i campioni La Juventus Perché la squadra A differenza con le piccole squadre Le grandi Che anche se giocano male Basta Una giocata di un campione Che sia di Bale Guain La sblocca e ne vincono Vale anche per il Napoli L'Inter Eccetera Le piccoline Le squadre piccoline In momenti di difficoltà Non hanno ovviamente Tanti campioni Da poterla sbloccare Ecco diciamo così La tipo di Brescia Ha fatto tanti tiri Ma È riuscito a fare solo un gol La Juve fa due tiri Due gol Eccinica È forte Perché la Juventus Oltre il fattore C Eccinica È forte È una buona panchina Un'ottima panchina Rabiot personalmente Non mi piace tanto Come giocatore Nemmanco quando stava al PSG E non mi piace nemmeno ancora Ramsey Mi piace molto Ramsey Mi piaceva anche Colarse Non ci ha segnato anche noi Iguain Non gioca male Rece sempre a fare assist Buone giocate Il pareggio sarebbe stata La cosa più giusta Un primo tempo ciascuno Hanno giocato bene La vittoria Il Brescia no Perché comunque la Juve Il secondo tempo Ha fatto molti di import Sono andata per la difesa Il portiere del Brescia Però un pareggio Sarebbe stato giusto Perché il primo tempo L'ha dominato il Brescia E la Juve vince Con fortuna Come sempre culo Ed essendo che cinica E col suo cinismo Ragazzi Sono tre punti d'oro Perché la Juventus Anche quando gioca male Vince Quando gioca male Riesce a portare anche un pareggio Come quella Ferentina Meritava di perdere Ragazzi E questo è il sintomo Che anche quest'anno Danno loro Nonostante sia un campionato Più aperto quest'anno Perché la Juventus Anche contro le squadre piccole Soffre Invece gli altri anni Con Allegri Dominava Le altre squadre piccole Gli altri anni Con Allegri La Juventus E di Allegri Si arrendevano Stendivano il tappeto Così diciamo Non giocavano proprio Invece come Mizzarri La squadra di Mizzarri Giocano Ci provano E possono anche fare un miracolo Quindi è più aperto il campionato Però Da questo si vede Che la Juventus Vincerà di nuovo lo scudetto Perché Qualsiasi altra squadra In queste partite Avrebbe perso O pareggiato La Juventus Avrebbe portato due vittorie Quando meritava Un pareggio E una sconfitta E invece ha portato due vittorie Da qui si vede Che è sempre danno suo Perché Tra bravura Forza Cinismo Fortuna E panchina lunga Vince sempre lei Quindi sarà sempre lei Probabilmente che vincerà lo scudetto Detto questo ragazzi Il gioco di Sarri Ci vorrà tempo Ripeto Per Vedersi Però Nel secondo tempo Alcune giocate Si somigliava Al gioco del Napoli Detto questi ragazzi Nei commenti sotto Fatemi sapere che cosa Ne pensate di Brescia Juventus Se è stata giusta La vittoria Dalle Juventus O il Brescia Meditavo la vittoria O il pareggio Per me il pareggio Però Che dobbiamo fare Sulla punizione Che c'è stato il dubbio Sulla punizione Che ha segnato Di Bala C'erano Beh lì Di Bala Sta correndo Basta un piccolo tocco E cade Perché ci sta Ci sta dare punizione Perché comunque Piccolo tocco C'è stato Quando uno va in velocità Basta anche Chi di fuori E vi atterra E' un po' eccessiva La funzione Però comunque Ci sta Che è un piccolo tocco E va Vabbè Detto questo Fatemi sapere Tutti nei commenti Che cosa ne pensate Se meritava il Brescia La Juventus Un pareggio Una vittoria E se è stata giusta La vittoria Dalle Juventus Che cosa ne pensate Dalle Juventus Come squadron E chissarri Secondo voi Che cosa farà E il Brescia Secondo voi Se si salverà Io non lo so Se il Brescia Questa non si salva Perché ha un ottimo attacco Un buon centrocampo Però In difesa E anche un buon portiere Però la difesa E un po' il centrocampo Alcuni giocatori Insomma Non so se basta Per poter Salvarsi Perché comunque La lunga Il Brescia Deve beccare Tante squadre forti Ma anche le piccole Che giocheranno Con sanguagli occhi Ma lo si devono salvare Io mi auguro Per loro Che il Brescia Si salva Perché una bella squadra Gioca bene Però Non so se basta Perché comunque Ripeto La difesa E il centrocampo Un po' così così Ha un buon attacco E un buon portiere Vediamo Secondo me Non si salva Secondo me Non si salva Il Brescia Non ce la fa Per poco Ma non ce la fa Perché l'Udinese E la Spal Si salveranno L'Udinese Si salverà Veramente Culo Per poco E la Spal Si salverà Mi auguro Perché mi fa tanto Simpatia la Spal Detto questo ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Sempre Forza Natural Vi c'è tutti i ragazzi D'Alessona Vediamo un altro Ciao tutti